Una classica formato cineteca. Era lo scontro fra le grandi superstiti di Coppa, l'Inter alla ricerca del glorioso passato dei facchetti e dei mazzola e la Juventus alla caccia di uno slam di trofei inaugurato dai Bettega e dagli Zaf. Facciamo un po' il gioco. Domando dell'Inter a Bettega e la Juventus a Facchetti. Sarà più stanca la Juventus o l'Inter dopo le nuove di Coppa secondo lei? È difficile. Direi che tutti e due possono avere delle scorie fisiche ma sicuramente un grosso morale. Io se devo parlare dell'Inter sarei preoccupato come Juventino perché se dovesse giocare come mercoledì sarebbe una brutta gata. Questa Juventus ha dimostrato che quando la partita è importante sbaglia poco, eh Giacinto? Sì, in effetti per quanto riguarda chi ha speso di più credo che sicuramente ha speso di più l'Inter mercoledì. E in effetti la prima parte della gara sembra proporre due squadre non al massimo delle energie fisiche e nervose. Svettano le opposte difese e il gioco viene espresso soprattutto a centrocampo con la Juventus in grado talvolta di avvicinarsi pericolosamente a Zenga. Tardelli è l'anima degli attacchi bianconeri. Con Lovati devia una sua incornata. Arrossi e Briaschi stoppati sono centrocampisti e difensori. Vedi Tardelli e Cabrini a inseguire il gol. L'Inter non attende passivamente il suo momento e passa nella prima circostanza in cui riesce a prodursi in profondità con Altobelli. È un malinteso fra Tardelli e Caricola lasciare libero il centravanti. La Juventus reagisce e agguanta il pareggio con Tardelli la cui conclusione viene respinta oltre la linea da Marini. Buongiorno Avvocato. Bene grazie, buongiorno. Buongiorno Presidente. Vedo che sta scambiando alcune idee con i perti sulla partita. La partita da Juventus-Inter è sempre una bella partita. È bello vincere, pareggiarla, perdite. Perderla è sempre un grande classico. Per quanto riguarda questo primo tempo, è piaciuto molto? È moltissimo. Giocato, giocato aperto, con molte possibilità. Secondo te come va a finire Avvocato? Di solito segniamo per primi e perdiamo. Stavolta abbiamo preso il gol per primi e speriamo nel contrario. Grazie, guarda, vedi. Previsione azzeccata, anche se l'avvio della ripresa evidenzia il forcing dell'Inter. Il palo è di Marini. Trapattoni esclude Rossi per Vignola e sceglie la carta del contropiede, mentre Rummenighe dimostra di non accettare il pareggio. L'Inter fa il Colonia e consente alla Juventus di esaltarsi nel gioco di rimessa. Boniek sigla il 2 a 1. Tardelli calza i panni di Platini, inventa un lancio perfetto e chiama Boniek al ruolo di equilibrista per resistere all'intervento di Baresi. La Juventus insiste. Ferri ferma Briaschi come può. La partita si chiude quando il quintetto Cabrini, Vignola, Boniek e Platini Briaschi suona il concerto dei piedi buoni e confeziona il più esemplare dei gol, capitalizzando lo sbilanciamento avversario. Trapattoni dirige in piedi l'orchestra e assiste allo storico momento magico in cui forse il Verona abbraccia lo scudetto. Da questo orecchio Zenga per ora non ci sente, ma 5 punti di distacco sono tanti. Oggi avevamo l'opportunità di non perdere terreno dal Verona dopo essere passati in vantaggio, ma probabilmente sembrava una partita segnata perché direi che così abbiamo perso una partita che sinceramente per come si era messa nel secondo tempo io pensavo che fosse più facile vincere che perdere. Invece il gol in contropiede l'ha cambiata praticamente. Secondo lei Castagnere, era più la voglia della Juventus di riscattare il 4-0 dell'andata o il fatto che l'Inter cerca di rimanere a galla per incorrere il Verona? Le due squadre si sono date battaglia anche se nessuna delle due forse aveva la carica delle giornate migliori, però tutte e due hanno cercato di vincere. Castagnere ha detto che è andata male quando è il momento migliore dell'Inter. Giusto, ho visto bene le cose, mi sembra che l'Inter ha spinto, voleva vincere questa gara, si senteva capace di vincere, abbiamo colpito in contropiedi. Dunque è vero che nel mio momento, nel mio momento dell'Inter gli abbiamo colpito. Idealmente la Juventus campione d'Italia consegna lo scudetto al Verona avendo fermato questa Inter che ormai ha 5 punti della capolista, 7 giorni dal termine, i giochi sono fatti. Beh, mi sembra che sicuramente abbiamo dato una grossa mano al Verona, noi l'abbiamo fatto per noi stessi e non per il Verona certamente. Credo che il Verona debba guardarsi ancora dal Torino vista la classifica, però domenica noi avremo il Torino, è possibile che magari riusciamo a dargli un'ulteriore mano anche domenica.